Musica Bella a tutti i free readers, bentornati a questo appuntamento con Spliff Break Come avrete visto, oggi è uno speciale, speciale weekend Speciale Spliff Break Weekend, perché? Perché c'è una notizia importantissima da diffondere e da far sapere davvero a tutti E da approfondire insieme Nuovo Ministro delle Politiche Antidrogue, noi preferiamo chiamare così È stato scelto ed è un'antiproibizionista Fabiana Dadone, una deputata che ha sempre dimostrato la sua voglia di spingere il tema Di parlare del tema cannabis, di regolamentazione, farlo seriamente Approfondendo le tematiche e interfacciandosi soprattutto con la società civile Fattore fondamentale con le associazioni, con gli attivisti Quindi con tutti noi, perché ognuno di noi può fare la sua parte Deve fare la sua parte e in questo momento deve farsi sentire ancora di più Andiamo a scrivere sotto il suo profilo Facciamoci sentire Richiediamo la conferenza governativa sulle droghe, sulle sostanze superpacenti Che non è stata fatta dal 2009 Che il nuovo Ministro ha risposto Che sarà in programma non appena terminate le esigenze pandemiche Ovviamente non sarà semplice, non sarà immediato Ma cerchiamo di lavorarci subito per essere presenti tutti Per portare compatti le nostre istanze Per far sentire che è necessario avviare un procedimento Di riforma di una normativa ancorata ancora al 1990 Ripetiamolo, al 1990 Nel 2021 è nettamente tempo di un cambio di passo Di rivedere la normativa Di farlo insieme agli attori della società E di farlo tutti in un modo proficuo per la società E non soltanto per alcuni partiti Per alcuni schieramenti E soprattutto Non basandoci più sulle ideologie Ma sui dati Sul confronto Sulle discussioni Questo è fondamentale E questo stiamo richiedendo insieme A tante altre realtà Il lavoro che si sta facendo è grandissimo Continuiamo a puntare all'obiettivo Serve una riforma completa Serve una nuova legge Serve un cambio di passo Dobbiamo farlo Possiamo farlo E soprattutto È super conveniente Per tutta la società E continuiamo a esporre perché Grazie a tutti i freeweeder Per la continua pressione Che stiamo facendo tutti insieme Su tutti i social network Anche sul territorio Grandissimi Continuiamo a farci sentire Diffondiamo questo video Per chi non l'ha ancora fatto Si iscriva a questo canale E continuiamo a diffondere informazioni Sempre Fino alla libertà Grazie a tutti i nostri spettatori Qui non l'ha ancora fatto No l'ha ancora fatto Grazie a tutti i nostri spettatori